Soddisfatto del roster che è riuscito a mettere a disposizione di Coach Paternoster? Sicuramente siamo riusciti a prendere tutti i giocatori che volevamo. Questa è sicuramente una cosa che ci fa felici. Abbiamo tutte le trattative che volevamo portare a termine, siamo riusciti a concluderle, quindi siamo contenti, ragazzi che abbiamo voluto fortemente. Ci sono giocatori che già conoscono bene la categoria, ci sono ragazzi promettenti, alcuni fanno anche parte del giro delle nazionali giovanili, il classico giusto mix tra giocatori esperti e giovani che vogliono mettersi in mostra. Sì, penso che sia la base in questi campionati di uscire a creare il giusto mix di esperienza e forza gioventù. L'energia dei ragazzini che messa al servizio quella dei più grandi e viceversa, quindi speriamo che le cose combacino al più presto. Inizia il ritiro, saranno due settimane molto intense, due settimane in cui questi ragazzi dovranno imparare a diventare squadra, a ragionare con un'unica testa. Sì, l'obiettivo è quello, l'obiettivo è stare il più tempo possibile insieme in questa prima fase, nella fase iniziale della preparazione, proprio per dar modo a tutti quanti di noi, siamo una squadra nuova per dieci decimi, quindi alla fine rifatta da capo ed ha bisogno del giusto tempo per amalgamarsi. Quindi penso che dovrà essere un nostro punto di forza. Sulle amichevoli ce ne saranno diverse, due con squadre di serie A2 in particolare, il derby con Scafati, a cosa serviranno in particolare? Serviranno a darci prima di tutto la netta sensazione di quella che sarà la nostra preparazione, a che punto saranno la preparazione. Abbiamo scelto di fare un precampionato importante proprio perché vogliamo confrontarci con squadre di livello anche più alte del nostro per capire bene dove poter lavorare e dove dover migliorare.